Il piano annuale direttamente su GAMSGO con Spotify con 1,92€ al mese, piano annuale di 22,99€ più il codice sconto te lo fa scendere sotto i 22€. Quindi in questo caso hai mesi di acquisto di 12 mesi, seleziona tipo una fattura. Hai un codice promozionale o un coupon, ci clicchi qua sopra e inserisci il codice promozionale che tengo qua, che vedi sullo schermo. Quindi in questo caso il piano annuale sta sui 10,99€ al mese, all'incirca 12 mesi qua 99€, però può anche costare di più. Posso anche mostrarti direttamente io che compro Paramount Plus, un piccolo esempio dove io compro direttamente Paramount Plus, come puoi vedere io vado direttamente a comprare Paramount Plus, vado direttamente al pagamento. Così facendo mi manderanno le credenziali per via email, così facendo poi prendo l'email e la password e la inserisco direttamente sul sito di Paramount Plus. Quindi in questo caso come accedere? Ti ho lasciato il link in descrizione che ti porterà sulla pagina di Gamsgo, gamsgo.pro, eccolo qua. Faccio accedi, accedo direttamente con l'account Google perché così facendo ti manderanno le credenziali per via email. Ed eccolo qua, accedi a Spotify, loro ti manderanno per via email le credenziali, un'email e una password. E puoi fare direttamente accedi. Ed eccolo qua, vado su Spotify, iscriviti adesso, codice promozionale che tu hai lasciato in descrizione oppure quello che vedi sullo schermo e lo compri e fai l'accesso su Spotify. E te lo tieni per un anno intero a soli 21,30€. Dipende anche dallo sconto, quindi se lo applichi si scenderà di prezzo. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risparmiare con Spotify su Gamsgo con un anno intero a soli 21,50€. Sperando di arrivare sui 21€. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video su Gamsgo. Ciao!